Ok, onestamente per quanto sia da una vita che voglio fare cosplay di Nata, ho sempre avuto paura di questo tipo di lenti a contatto. Non riesco neanche a vedere se il video è a fuoco, forse così sì. Adesso ne ho messa solo una e francamente sempre meno pauroso di quanto mi aspettassi, ma con questo vedo la nebbia e per carità l'effetto è fantastico, un po' lo vedo, ma non tantissimo. Ora provo a mettere anche l'altra, sperando di non morire e proverò a mettermi le ciglia finte e la parrucca, spero. Non vedo un cristo, cioè vedo ma sfocato, ha un stranissimo effetto, mi vedo, ma adesso la vedo grigio a mettermi tipo le ciglia finte. Ci provo, però. Queste lenti sono state una delle mie paure più grandi assieme all'esclera, che non ho ancora mai avuto modo di provare, forse un giorno ci sarà la possibilità, perché non credevo sarei mai riuscita a provare queste. Invece eccomi qua. se mi metto male le ciglia finte è perché non vedo un tubo, quindi vediamo come va. Alla fine, come potete vedere, sono riuscita più o meno a indossare tutto. Ho le ciglia messe malissimo, la parrucca sta malissimo e non vedevo davvero niente. Infatti tutti i video dove parlavo dopo erano fuori fuoco, quindi già ho postato l'ultima clip dove ero completamente fuori fuoco e non mi sembrava il caso di fare tutto un video così. Quindi aggiungerei solo delle cose. Allora, le lenti sono davvero pesanti e affaticano tantissimo l'occhio, quindi assolutamente sconsiglio l'uso prolungato di queste lenti, addirittura a tre ore mi sembra veramente esagerato. Dovete prepararvi all'idea di vedere come se foste in mezzo alla nebbia, non vedrete un tubo, se volete truccarvi sarà difficilissimo, se volete fare una foto ancora meno, insomma, state sempre vicino a qualcuno se dovete camminare, state un po' attenti perché vedrete giusto un sagome, niente di nitido. Quindi detto questo, grazie ancora per aver visto il video, mi spiace per le cose messe male, per il fuori fuoco e tutto, ma spero vi sia piaciuto. Grazie, ciao ciao!